e cosa come lo sta vivendo invece l'america la florida questa questa situazione insomma come 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 si va avanti lì a vivere è un paese in guerra no si attende qualcosa come si prepara no 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 allora qui c'è però qui c'è da dire che l'italia è stato il primo paese europeo colpito e quindi sull'italia si sono accese moltissime luci e tutta questa luce ha messo l'italia diciamo in una posizione importante a livello internazionale io vorrei dire a tutti che quando si fa una cosa per la prima volta io per prima non la faccio perfettamente di solito faccio anche qualche sbaglio e vorrei che ci fosse anche un po di indulgenza nei confronti delle persone che si sono trovate a gestire una situazione veramente complicata cioè questo virus era dentro un pipistrello né in mezzo alla giungla asiatica fino a tre mesi fa come si potevano fare delle previsioni accurate è molto difficile io credo che l'italia abbia risposto bene e anzi quello che sta succedendo in italia farà scuola e faranno scuola sia le cose che abbiamo fatto bene e sia le cose che abbiamo fatto meno bene perché la prima volta non tutte le ciambelle vengono col buco vorrei aggiungere due cose la prima è che questa crisi può essere una grandissima opportunità per dare una spinta all'italia digitale noi sto sto lavorando con stefano quintarelli mio amico oltre che ex collega esperto di informatica per capire quali sono piattaforme gratuite utilizzabili dalle scuole anche le scuole che sono più in difficoltà per fare didattica da remoto perché comunque può servire certo e lo stesso vale per il telelavoro tornando agli stati uniti gli stati uniti eh già ci sono dei casi ma eh osservano quello che accade nel resto del mondo quindi gli stati uniti sicuramente saranno più preparati anche sulla base dell'esperienza che si è fatta in italia e quindi noi di questo dobbiamo essere da un lato consapevoli e dall'altro dobbiamo essere orgogliosi perché comunque il paese ha risposto corrisponde al vero quanto abbiamo letto oggi scusami l'aria che ci sarebbe negli stati uniti un vaccino in via di sperimentazione o sotto test allora è ovvio che la condivisione dei dati che anche questa è una leadership tutta italiana ha aiutato moltissimo nell'accelerare quello che sono le procedure per produrre il vaccino eh direi una bugia se dicessi che fra tre mesi avremo un vaccino noi non avremo un vaccino prima di sei sei otto mesi un anno e può essere anche che questo vaccino non serva perché se effettivamente questa è una sindrome simili influenzale causata da coronavirus meno grave dell'influenza forse non c'è neanche bisogno di vaccinarsi